Sì? Davvero? Davvero? Con i like ho vinto! Ho vinto che... No, non ci posso credere, posso parlare con il ministro Salvini, io Emilia Clementi, ho vinto tramite i like! No! Ma dai, non è che è una truffa? Siete quelle delle Iene? Siete scherzi a parte? Ah no, 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 va bene sì, sì sì certo, certo. Pronto? Ministro Salvini come? Non mi conosce? Io ho stretto la mano, io ho fatto il video dicendo che dovevamo mandare via Dalfano. Ma quasi quasi mi sta facendo rimpiangere pure da avergli stretto la mano e da aver mandato via Alfano. Sì, sì, me lo sta facendo a rimpiangere, sì. Vi raccomando, ministro Salvini, non beva troppa birra, che le dà al cervello. Le consiglio di fumare una cannabis, light, che almeno con un po' di concentrata in più si riattiva nei suoi sinapsi, si rilassa e non spara più cazzate, va bene? Grazie. È stato un piacere, sembra un onore, è il libro che lei mi ha autografato, Emilia Clementi, la voce del popolo, stasera so io quello che devo fare. Lo cestino. Indubbiamente. Lo cestino, lo cestino. Indubbiamente. La ringrazio. È stato un piacere veramente, averla potuto dire che è affetosa, è affetosa. Mi sono sfogata.